Oggi chiediamo allo Spirito Santo il dono della santità. Dal Vangelo secondo Luca, il capitolo il primo, i versetti sono il 74esimo e il 75esimo. Di concederci, liberati dalle mani dei nostri nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto e per tutti i nostri giorni. Spirito di santità, oggi ti chiedo la preziosa grazia della santità, opera sulla mia anima e su tutti gli aspetti della mia vita, con la stessa tenace costanza che hai avuto con Sant'Ignazzo di Loyola. Tu sei riuscito a compiere un'opera di trasformazione profonda, cambiando la sua ira e mansietudine, la sua testardaggine e saggezza, la sua impazienza e impazienza, la sua vanità in umiltà, la sua lussura e incontinenza e castità, il suo odio in spirito di perdono. Spirito Santo, tu hai il potere di fare nuove tutte le cose. Proprio quando Ignazio pensava che per lui tutto fosse perduto, perché i suoi progetti erano andati in pezzi, tu lo stavi preparando a ricevere le grazie più sublimi della sua vita. Anche io voglio aprirmi oggi alle grazie di santità che vorrai concedermi e ti dico, sì, eccomi per fare la tua volontà. Amen